E' da Verona, Spondachievo, che arriva all'ufficialità di due prestiti in Casarezzo. Due movimenti che erano nell'area, visto il passaggio del Beppe Andrei Sufai alla corte di Giallo Blu. Dal Chiavo Verona, ecco arrivare il difensore classe 93 Matteo Solini e l'attaccante Arthur Kevin Yamga, quest'ultimo classe 96. Due prestiti secchi fino al 30 giugno 2017, come riporta il sito della società veronese, quella Maranto. Solini è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, spostandosi definitivamente a Verona nel 2012. Da qui i prestiti con Castiglione, Reggiana, Real Vicenza e Renate, nell'ultima stagione con tre presenze. Con il suo arrivo la difesa è quasi al completo. Yamga, attaccante all'occorrenza esterno-offensivo, è forse più conosciuta da Rezzo rispetto al suo collega, visto che fino a poche settimane fa indossava la maglia del Siena con 25 presenze e 4 gol all'attivo. Rashid Dharma esce invece dai radar del mercato Maranto. La punta classe 85 ha lasciato la Reggiana per accasarsi a Pordenoni. La Rezzo a questo punto dovrà virare su un altro nome per l'attacco, consapevole che la concorrenza per una punta in grado di andare in doppia cifra non manca.